buongiorno web amici benvenuti un altro video da credenzario oggi video veloce veloce perché vi faccio vedere come si sblocca come vedete il motro vision che cinquantino per legge di andare 45 chilometri orari ma con una piccola manovra riusciamo a fargli fare quasi gli 80 ok quindi andiamo vi faccio vedere come fare dunque dobbiamo ottenere l'acceleratore tutto accelerato tirare il freno girare la chiave per cinque secondi ecco qui come vedete c'è una spia lì della moto lo vedete ea destra ok vuol dire che in questo caso funziona lascio spia tolta la moto è bloccato bloccata se facciamo la stessa operazione la rimettiamo di nuovo a 45 km orari quindi facendo in questa maniera possiamo sia bloccarla che sbloccare ovviamente con la power andrà 80 all'ora se mettiamo in eco anche se sbloccata farà solo i 50 chilometri orari ok ci vediamo al prossimo video da credendario ciao